Grazie, buona pasqua. Aiutate le persone a mangiare, perché ci sono passato, ho sofferto il freddo e so cosa vuol dire. Sono le parole di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso novembre, mito dentro e fuori dal campo di calcio, che ha sempre diffuso messaggi di speranza e solidarietà a tutti coloro che soffrono la povertà. E' anche oggi che l'emergenza sanitaria espone a rischi maggiori le persone più vulnerabili, la solidarietà è ancora più importante. Ed è proprio seguendo l'esempio del Pipe d'Oro che l'avvocato Angelo Pisani ha organizzato in un luogo sacro ai napoletani, dedicato al mito del caccio intitolato con il suo nome, largo Diego Armando Maradona, un'iniziativa di solidarietà per le persone in difficoltà. Mille chili di generi alimentari tra zucchero, pasta, caffè, vino e colombe pasquali. La storia si ripete, Diego Armando Maradona lo faceva ogni giorno e in nome di Diego Armando Maradona, Napoli, quartieri spagnoli donano solidarietà, assistenza a chi ha più bisogno. Chi ha deve dare, chi non ha deve ricevere. Continueremo sempre con queste iniziative perché gli esempi positivi sono il futuro della nostra città. Ricordiamo che Diego Armando Maradona non è solo sport ma è anche magia, spiritualità, arte, musica e tutto quello che di positivo possiamo immaginare e di esempio per i bambini. Antonio Esposito e Giuseppe Klein, organizzatori dell'evento. Siamo proseguendo quello che faceva lui, a questo largo è sempre una soddisfazione, questa gente povera che passa e ci diamo qualcosa da mangiare, una solidarietà per il quartiere. Diego chiama, Napoli risponde, gli amici hanno subito dato un aiuto, una solidarietà per tutti i napoletani. Grazie. Grazie. Grazie.